Partecipa a un festival per il Kenya, il Santo Giangolo! Formidabili salvatori al tappeto e creatori di piramidi! Piramidi dalle figure stranissime, bello! Santo Giangolo! Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Mamma mia, che felici, benissimi! E guardate che entusiasmo, che voglia, che vita! Bravi! Grazie a tutti! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.